Il Lusor nasce alla fine dei primi anni 2000 da una ricerca che è stata effettuata in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine. È un amaro di erbe ottenuto esclusivamente per macerazione, quindi significa che acquistiamo le erbe e queste vengono messe in infusione in etanolo. Dopodiché queste erbe rimangono per alcuni mesi in continua macerazione, poi vengono separate e si ottiene un concentrato. Questo concentrato, a base quindi di erbe e di genziana, andiamo a creare dopo alcuni mesi il liquore vero e proprio, che poi continua a riposare per altri due mesi fino all'imbottigliamento. Al naso invece si sentono i sentori speziati, quindi il chiodo di garofano, sempre, e soprattutto la genziana. In bocca invece prevale la genziana, la menta e anche la cannella, il ginepro. La gradazione alcolica è di 26 gradi, quindi non è impegnativo dal punto di vista dell'alcol, però è molto strutturato dal punto di vista degustativo.